su quel fasa certo che sia al cibo mi sisi il neon che entro in fase che si inga gli appalti è il microfono riflessione filtra si va bene mi siano vedi se stia verso il cacole insieme. so che vai staccare avanti si che vai staccare la poteva, sbattaria la poteva manda si staccare agli in questo modo e la testa vendo l'emba del palco? mettete il palco e mettete l'acquette e mettete il microfono per gli occhi e non so, mettete il palco si può riuscruire e mostre il palco e mostre la prima e il macrono il microfono il microfono il microfono il microfono il filtro che ci sono anche strano il cibo di condensare il microfono ora, il microfono ci si deve essere disponibile so che ci sia la scuola il microfono di condensare il microfono Ora vediamo la visione, il quanto ci sono un altro che si trattano a una mano, ma la mano si trattano e non si trattano al cuore, ma la mano si trattano a una mano, quindi si trattano a una mano, assicurati ora vi faccio non deve cercare perché è lì ora vi faccio ora vi faccio Ok, ora inizia il nostro cliente. ma se le mangiate e fasi se le mangiate si deve essere inutile si deve essere inutile e se le mangiate se le mangiate le mangiate Aggiungere un po' di più di più di più. non si viene da un forte un po' di iniziare la mano 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 un filtro un filtro Sì, non è vero, non è vero, non è vero. ecco ecco è vissuto ecco ecco che ci sono che che ci sono un po' un po' mettiamo il pò che fa mettiamo il pò che c'è mettiamo i biazi in modo da direttamente il fondo e quindi e quindi in modo da direttamente il fondo ci sono sempre giusto il fondo il fondo è bambi Poi, non ci sono tutti gli altri. C'è l'abbiamo la silla. Quindi, il nostro sito è un po' di silla. Il nostro sito è un po' di microfonos, flexione, per fare il sito. Il nostro sito è un po' di silla. Now, ci sono un po' di silla. Faccio una silla, un po' di silla. Alla prossima è lì, l'abbiamo un po' di silla. il nostro canale, che stanno spostando la mia discolazione. Ed è stato spostato con la mia moglie. Sto riporto, ma non sguardo il nostro canale, ma non è un microfono. La mia moglie di riconoscere il microfono. Mi ha chiesto che voi fare il microfono e guarda la mia vicenda. かった. Non prendo la personale. Non so se non il mago로 in queste domande. Non c'era un po, perché noi siamo in questo modo. Non c'è un po, ed è il suo padre. Beh, doveva? Non c'è un bel po. Non c'è la mia madre, la mia madre. Mi rac Marcelo è diventa una marcia, Mi racista la mia donna direzione. Ma questa è un po' di un po' di una direzione. Di un po' 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 tu stessi con tessere e a tesserebecchi l'applicazione e la tua stessa non era resa e l'aspirazione la tua stessa lato chiamato con il test o alessandro dopo le te e una volta in casa o persone con i deteni l'appare quando hanno detto che sia un bambino ed il vostro bambino e si tratta di essere sentito che si tratta di essere sentito e che si tratta di essere sentito negli difetti ma io stavo riusciare e che ho fatto e che ho fatto e che ho fatto per la sua gente e che ho fatto ma non fai una possibilità di essere un filtro di riscaldamento, e il flore di riscaldamento che non sono un filtro di riscaldamento, ma non si è un filtro di riscaldamento, ma non si è un filtro di riscaldamento. Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione!